Ciao, sono Alberto Cabas Vidani di ItalianIndie.com e in questo video ti voglio parlare di una cosa importante per chiunque abbia una newsletter, ovvero la pulizia della lista, la rimozione degli iscritti che non sono più ingaggiati con la tua lista. È una cosa molto importante per ridurre le spese, per mantenere buone le statistiche, ti spiegherò tra un attimo perché serve e come fare. Prima di partire, a proposito di mailing list, ti invito a iscriverti alla nostra di newsletter ed è una newsletter in cui ogni settimana riceverai le idee sicure estratte da libri o da articoli utili agli indipendenti per accrescere la loro indipendenza attraverso un miglioramento della crescita personale, della produttività e ovviamente anche del business. Quindi per iscriverti a questa newsletter vai su ItalianIndie.com e sulla home page troverai bello in alto il pulsante per iscriversi. Ovviamente puoi andartene quando vuoi, puoi disiscriverti quando vuoi. A proposito di disiscriversi torniamo all'argomento di oggi, la pulizia della lista. Pulire la lista vuol dire semplicemente eliminare le persone che da un po' non aprono le tue email. Ma che senso ha farlo? Hai sudato per creare contenuti che attraggano iscritti, hai speso per acquisire questi iscritti via Facebook Ads e poi ad un certo punto ti prendi e li elimini. Allora l'utilità diciamo ci sono tre motivi soprattutto che rendono utile questo passaggio. Prima di tutto una mailing list costa, tenere una mailing list su un autoresponder decente costa e nel momento in cui gli iscritti inattivi cominciano ad aumentare si tratta di centinaia o di migliaia di euro. Se sei un piccolo business chiaramente ti conviene ottimizzare le spese, non ti cambierà rimuovere cento iscritti ma appunto quando si tratta di centinaia o di migliaia sicuramente è un passaggio che conviene fare. In secondo luogo gli iscritti inattivi ti sbarano le statistiche. Allora cosa succede? Se tu sai che nel tuo settore una buona percentuale di apertura è il 25% e continui a vedere che la tua lista apre il 20%, il 15%, tu dici cavoli le mie email fanno schifo. Poi vai a vedere e trovi che metà lista è inattiva da tre mesi, metà della lista non apre da tre mesi perché si sono iscritti in un altro momento, perché la campagna su Facebook Ads non ha funzionato, mille motivi ma comunque non lo fanno. Se tu li rimuovi di colpo aumenterà di diversi punti percentuali la tua open rate, la tua percentuale di apertura e di conseguenza avrai un altro modo di valutare le tue email. Non starai lì a chiederti cosa sto sbagliando, ti accorgerai che per quelli che sono dentro la lista effettivamente quelle email funzionano. Allora a quel punto magari cercherai di capire qualcosa di più di queste persone per attrarne altre simili. Quindi appunto pulire la lista ti permette di avere statistiche più realistiche, più rispondenti al vero, rispondenti soprattutto alle necessità di quello che è il tuo pubblico, il pubblico che desideri. Infine c'è anche la pulizia è un'occasione per riattivare qualcuno. Metti che tu hai un iscritto che per un po' si è stufato, poi si vede arrivare sta email in cui gli dici oh se non mi confermi io ti cancello, allora magari cambia idea e preme sul link che gli manderai e si riattiva e magari riprende a seguirti. Quindi questi tre motivi principali per cui fare la pulizia della lista. Non è appunto un suicidio, ci sono dei motivi ben precisi. Allora come fare? In base all'autoresponder che tu utilizzi la procedura è diversa. In generale hai sempre un'opzione manuale, quindi una sequenza di cose da mettere in piedi, di cui ti parlo tra un attimo, da attivare manualmente. Qualche autoresponder ti fornisce gli automatismi necessari per automaticamente eliminare tutti gli iscritti che diventano inattivi. Parliamo della procedura manuale perché quella è sempre è sempre disponibile e poi parte di questa la usi anche se hai la possibilità di fare una procedura automatica. In sostanza tu trovi tutti gli iscritti alla tua lista che sono inattivi. Di solito vai a guardare quelli che negli ultimi tre mesi non hanno aperto nessuna email. Tre mesi sicuramente è un buon periodo se tu mandi un email almeno alla settimana, perché vuol dire che non hanno aperto 12 email. Se proprio proprio non le hanno aperte e tu hai mandato cose potenzialmente interessanti allora c'è qualcosa che non va. Allora tu guardi gli iscritti che negli ultimi tre mesi non hanno aperto nessuna email, su alcuni autoresponder lo fai con la ricerca, su altri c'è un filtro automatico e li taghi. Gli metti un tag del tipo iscritto inattivo. Una volta che li hai taggati a tutte queste persone a cui hai messo il tag devi mandare una sequenza di email che sarà composta da tre email ed è una sequenza di riattivazione la chiama qualcuno. Semplicemente questa sequenza serve a dire guarda sto per cancellarti ti do l'ultima possibilità per rientrare. Perché tre email? Perché se è uno che non apre le tue email dagli qualche possibilità in più. C'è sempre un motivo per cui uno non apre un email anche se in realtà magari in generale quella mailing list gli interesserebbe. Quindi tu prepari queste tre email e le prepari in anticipo. Allora hai una prima email in cui gli dici guarda sto ripulendo la lista. Non serve neanche spiegare troppo. Ti ricordo che ti sei iscritto a questa lista perché ti ho offerto, ti offro queste cose. Rimani per riuscire a ottenere, a continuare ad avere i consigli che ti aiuteranno a. Quindi insomma gli spieghi il beneficio di rimanere iscritto alla lista. E poi inserisci un link che a seconda di come funziona il tuo autoresponder servirà a riattivare questa questa persona. Quindi sostanzialmente a chi clicca il link viene rimosso il tag inattivo, iscritto inattivo, quello che avevi impostato all'inizio. La stessa cosa la fai nella seconda e nella terza email, cambiando magari un pochino il testo, diventando un filo più magari stringente man mano che passa il tempo. Perché nella terza email gli dirai guarda se non clicchi entro due giorni io ti cancello. Quindi aggiungi un po' l'urgenza così se uno proprio vuole rimanere sente la spinta a cliccare. Quindi motivi per rimanere dentro la lista e link per rimuovere il tag da implementare a seconda del tuo autoresponder. L'oggetto dell'email è abbastanza semplice nel senso che tu puoi scrivere, puoi anche inserire qualcosa tipo urgente, importante, attenzione a non sembrare troppo spammoso. Però puoi proprio scrivere semplicemente vuoi continuare a leggermi? Cosa ho fatto che non va bene? Questo è un addio? Tutte cose di questo tipo che per far capire che c'è una possibilità di perdere per sempre questa newsletter. Tu mandi queste tre email. Meglio mandare lunedì, mercoledì e venerdì così eviti il weekend che è sempre un po' più delicato e al lunedì tutti quelli che hanno ancora il tag, quindi che non hanno cliccato sul link per essere riattivati, allora li puoi cancellare. Punto. Li cancelli e a questo punto vedrai di colpo migliorare il tuo open rate, le tue percentuali. Basta. Questa è la cosa che devi fare. Chiaramente a seconda del autoresponder che utilizzi, per far entrare le persone in questa sequenza di tre email avrai bisogno o di un automatismo oppure di inserirle manualmente, ma insomma dipende appunto dall'autoresponder che utilizzi. Alcuni usano per riattivare le persone, per riattivare gli inattivi, un lead magnet. Quindi ti dicono clicca qui e così riattiverai la tua iscrizione, oppure non dicono neanche questo, clicca qui e riceverai il lead magnet. Allora chiaramente con questo modo otterrai più riattivazioni, ma è sempre un trade off un po' complicato, perché se uno si riattiva solamente perché gli hai mandato il lead magnet, non è necessariamente interessato alla tua newsletter, è interessato al lead magnet. Quindi magari superato l'interesse, l'emozione per aver ricevuto il lead magnet ti abbandonerà di nuovo. Quindi rischia di essere uno sforzo doppio e anche sprecato. Devi fare un lead magnet e devi creare un percorso di attivazione un po' più complicato. Non so se ti conviene fare così quando consideri persone che non hanno aperto molte email che gli hai mandato. Quanto spesso conviene fare questa procedura? Dipende da con che velocità cresce la tua lista. A te conviene semplicemente ogni tre mesi, ogni sei mesi guardare quante persone sono inattive. Se il numero è esiguo e non avrebbe nessun impatto sul tuo open rate e sulla tua spesa per l'autoresponder, aspetta ancora un po' semplicemente. Anche perché è un po' una palla stare ogni volta a reimpostare tutta la sequenza, a meno che appunto non vada totalmente in automatico. Se va totalmente in automatico non è un problema. Che criterio conviene usare per decidere quando farla eventualmente? Può essere l'open rate, ovvero potresti dire che finché l'open rate rimane sopra il 30% sei tranquillo e non ci pensi neanche. E quando scende sotto il 20% allora non va bene, c'è qualcosa che non va. Sotto il 20% vuol dire che l'80% della tua lista non sta aprendo le tue email in media e a meno che non hai un uso un po' strano dell'email vuol dire che c'è uno scollamento tra chi è dentro la lista e quello che stai offrendo. Quindi meglio scoprire cosa funziona e cosa non funziona. E ora andiamo a vedere come impostiamo questo su ConvertKit, l'autoresponder che usiamo per Italian Indie. Vedrai che puoi estendere queste lezioni a qualsiasi altro autoresponder, qualsiasi sia il tuo autoresponder. Ecco sono in ConvertKit e come vedi posso selezionare i Cold Subscriber che appunto è il filtro con cui ConvertKit seleziona quelli che non aprono le email da se non sbaglio 90 giorni. Posso selezionarli tutti e aggiungere un tag che vediamo dovrei avere già un tag che si chiama inattivi. Ecco vedi scritto inattivo da cancellare pulizia lista. Io aggiungo questo tag e poi vado nella sezione automazioni cerco la pulizia lista. Vediamo. Quello che succede è che quando li taggo parte questa automazione, vedi, quando riceve il tag parte la sequenza pulizia lista. E punto. Finito questo. E la sequenza contiene tre email che vengono inviate solo durante i giorni feriali a distanza di due giorni l'una dall'altra. E vedi la prima si intitola non vuoi più le nostre email. La seconda stiamo per dirci addio. C'è anche un bel emoji. La terza ultimo avviso. Vedi che la spara un po' più grossa. Attenzione a usare le maiuscole negli oggetti dell'email perché poi vengono etichettate come spam. E semplicemente il testo dice ho notato che non apri l'email. Qual è il nostro obiettivo? Quindi insomma cosa puoi ottenere da questa lista? E qui c'è il link che è quello che in ConvertKit si chiama link trigger. Il clic su quel link fa partire questa regola in cui semplicemente viene rimosso il tag iscritto inattivo. E in questo modo appunto chi clicca finisce perde il tag. Alla fine della sequenza io prendo tutti quelli gli iscritti che hanno quel tag e li rimuovo. Punto. Ok grazie di aver seguito questo tutorial e l'appunto spero che tu abbia capito le basi di come e di quando e di perché fare la pulizia della lista. Come vedi è abbastanza semplice. I risultati sono sono utili e se hai qualsiasi domanda sulla gestione della mailing list o su eventuali complicazioni legate alla pulizia della lista scrivi pure nei commenti. Ti ricordo poi di entrare nella nostra newsletter così potrai ricevere anche tu le idee sicure da libri e articoli a chi dedicate a chi vuole diventare indipendente. E come ultima cosa sono obbligato a chiederti iscriviti a questo canale se non l'hai ancora fatto. Se l'hai già fatto grazie mille. Condividilo con le persone a cui puoi essere utile. Alla prossima. Ciao.